È stata una bellissima esperienza, soprattutto perché abbiamo vinto tutte e due partite. Il nazionale è sempre una cosa diversa, qualcosa in più e sono contento per quello come è andata. Purtroppo non potevo vedere la partita perché noi abbiamo giocato ogni stesso tempo, però ho sentito come è andata, mi dispiace, però adesso dobbiamo ritrovare la vittoria, non c'è altra strada. Non posso dire che stanno male, ognuno lotta, vuole migliorare, vogliamo arrivare in miglior modo in partita contro pari. Certo c'è tanta voglia come ognuno, devo andarmi al meglio e trovarmi pronto per sabato. Queste sono le scelte dei mister, ho quello di prima, di mister Toscano, adesso di mister Breda, non sono io quello che sceglie il ruolo. Penso che ognuno vuole vedere la termina che lotta, che è concreta, che ci mette tutto in campo per prendere i tre punti. Sicuramente sì. Sappiamo che partita è derby contro Perugia, però adesso stiamo pensando a Bari, perché questo è un avversario veramente brutto, è stato un buon momento, però noi dobbiamo fare tutto per vincere.